Lasciamo la parola al moderatore intanto che è Orazio Carruba che è il direttore della scuola Buzzati. Orazio a te. Sì, allora il direttore del Vega, il dottor Vianello, entra sempre a gamba tesa, è uno stopper un po' ruvido, no? Perché io entrerei anche io a... Allora, qui con le cose che ha appena detto il nostro direttore, per i giornalisti non c'è più spazio, che cambino pure mestiere perché non c'è niente da fare. Questa è la realtà vera, poi dopo gli aggiustamenti si possono anche fare, ma siccome il mondo va come va, prima che arrivino le regole è finito tutto. Io vorrei solo ricordare, entro anch'io a gamba tesa, sono più piccolo, faccio il gattuso, sì? Allora, noi parliamo tanto del nuovo mondo, di questi nuovi sistemi planetari. E a Mestre abbiamo scoperto il tram. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere in maniera molto amara, perché il tram ce l'avevamo già, l'avevamo dimenticato, l'avevamo ritenuto che fosse qualcosa che non era più all'altezza dei tempi. Ci abbiamo messo 60 anni e abbiamo riscoperto che invece serve e come. Quindi io su queste robe qua vorrei un minimo di chiarezza. E allora abbiamo per fortuna qua il dottor Paissan, che tra l'altro è un collega, io mi scuso, ma gli do del tu. La privacy è morta, sì, secondo me, sì. Lui ci mette un bel punto interrogativo, io ci metterei un punto e basta. E poi dice, viva la privacy. Perché viva la privacy? La dobbiamo rifondare, rifare? Grazie. Grazie.